Andiamo magari un po' al mare, nonostante siamo a dicembre, andiamo a Tuglia in particolare perché c'è una nuova edizione del presepe tradizionale salentino che ci racconta Giampiero Pisanello, uno degli organizzatori. Giampiero, buongiorno e buona vigilia. Buongiorno e buona vigilia a tutti voi. Io direi di partire proprio dalle origini, Giampiero. Ci racconti un po' la tradizione dei presepi nel Salento? Assolutamente. Il Salento è patria dei presepi, ma soprattutto della terracotta, dei pupi in terracotta e dei pupi in cartapesta. E quindi in tutte le case è tradizione realizzare dei presepi molto tradizionali con la vegetazione della macchia mediterranea, questi pupi particolari e poi soprattutto la carta roccia, le pietre e i tronchi della nostra macchia mediterranea. E proprio a Tuglia, in questo piccolo comune a pochi passi da Gallipoli, nel centro del Salento, insieme a Marco Donadei e a tantissimi altri amici, abbiamo organizzato la terza edizione di Presepi del Borgo, che vede coinvolto tutto il centro storico del paese e dove è possibile ammirare delle realizzazioni tradizionali, ma anche delle realizzazioni un po' simboliche sul messaggio che il presepe vuole affidarci. Tra l'altro, in questa edizione, la cosa bella è che possiamo chiamarlo un presepe diffuso, ci sono presepi dappertutto e per andare a vederli bisogna visitare questi borghi. Da quest'anno si deve anche suonare il campanello e bussare alla porta delle famiglie di questi borghi. È proprio così. Nel centro storico di Tuglia, lungo le stradine e le corti, sono stati realizzati 13 presepi da tanti amici. In alcuni frantoipogei, in alcune cantine antiche e in alcuni casi bisogna proprio suonare nelle case delle persone per entrare. Vi accoglieranno naturalmente per farvi avvirare il presepe, ma soprattutto ci faranno anche degustare dei prodotti tipici salentini, tantissimi dolci che in questi giorni vengono preparati. Oltre a chiese, a cripte, a corti, abbiamo anche delle realizzazioni all'esterno, nelle tradizionali corte della nostra Tuglia. Un'edizione speciale questa, perché oltre alle 13 realizzazioni all'interno del centro storico, abbiamo anche 4 altre realizzazioni che sono un po' sparse in periferia, nella località turistica di Montegrappa, che è la parte più alta di Tuglia, del nostro paese. Ecco, poi ogni anno vediamo nei presepi sorgere una serie di personaggi che magari non sono molto legati alla tradizione, perché si cerca anche un po' di attualizzarli. Ecco, ce n'è qualcuno di particolare che magari ti va di segnalarci? E soprattutto come si bilancia tradizione e attualità, diciamo, del presepe? Allora, a differenza della tradizione napoletana, in realtà nel Salento questa cosa non avviene. Siamo molto tradizionali in questo senso. Magari alcune particolarità sono alcuni personaggi, come per esempio, lo dico in dialetto, l'umaco delle stelle, che è praticamente la persona che fissa la stella cometa, che va a scoprire appunto quella che è la grotta di Gesù seguendo la stella cometa. Oppure i remaggi non sono 3, ma sono bensì 4. C'è il re, che è un re maggio, che annuncia l'arrivo degli altri 3. E i nostri vanno rigorosamente a cavallo e non, come tradizione vuole, almeno italiana, a cammello. La nostra edizione di Presepi nel Borgo in realtà rivisita un po' e attualizza su quelle che sono le tematiche. Per esempio quest'anno abbiamo delle realizzazioni che attualizzano il presepe sull'accoglienza, sulla solidarietà. Tematiche che ci stanno un po' più a cuore ultimamente, insomma, un po' più di attualità. Ci vediamo allora a Tuglie, nel Salento, per i presepi della tradizione pugliese-salentina. Gian Piero Pisanello, tanti tanti auguri e buon Natale. Grazie, auguri a tutti voi e vi aspettiamo fino al 6 gennaio a Tuglie.